Ben ritrovati, ciao a Iu, l'acqua bolle, bucatini, pronte anche le melanzane, le andiamo a togliere, spegniamo, le adagiamo ovviamente sulla carta per frittura, assorbente e dopo le andremo a mettere nel sugo. Olio pulito, lo mettiamo qui, come vedete sta andando il sugo, dieci minuti e siamo pronti. Ok, tempo di cottura dei bucatini. A fra poco, ciao a Iu e che bello di caffà. Grazie.